Le storie che nel territorio seguono prenota attenzione il nostro reparto e questo per me è molto importante perché è dimostrazione del fatto che questo reparto si sta sempre più radicando sul territorio, offre un servizio ed è considerato un patrimonio di questo territorio, non un qualcosa di staccante. Noi ci diamo molto a questa collaborazione e questa collaborazione sta diventando sempre più essenziale per permetterci di stare all'avanguardia con le tecnologie e per poter portare avanti un programma umanitario di interventi anche sui bambini che vengono da fuori Italia, da dei territori in guerra o comunque svantaggiati.